Contento della prestazione, una squadra viva, una squadra che ha fatto la partita, una squadra che forse ci ha dato anche qualcosa in più della Juve all'interno dei 90.000. Quanto meno alla pari sicuro. Secondo me qualcosa in più, però questo dimostra che siamo in netta crescita, che la squadra ha ripreso il cammino, questa è una cosa importante. Siamo contenti perché tutta la città ci teneva, ci teneva soprattutto sulla prestazione e questo è quello che volevamo dargli. Il presidente ti ha parlato poco fa, anche lui si è dimostrato contento e le parole sono le solite, la squadra sta andando bene, siamo in linea. Sono sempre in linea con il mio presidente, però la squadra c'è, una squadra che dà sempre il 100%, sono ragazzi che veramente sotto l'aspetto della professionalità danno il 100% e questo noi siamo contenti. Poi le partite si vincono, si perdono, c'è l'avversario e c'è anche la sconfitta purtroppo delle volte. Per fortuna siamo in netta ripresa. Da una partita esteticamente bellissima come quella di Cagliari, con tantissime occasioni, una partita assolutamente tattica e maschia, la Fiorentina si è adattata bene e ha detto qualcosa anche nello spogliatoio poi venendo a parlare con le ragazze? Su questo non so tanto d'accordo, secondo me è più la Juventus che si è adattata a noi che non noi a loro, ossia loro hanno cambiato modulo proprio perché noi potevamo metterli in difficoltà, soprattutto sulla parte destra con Joaquin che sta in un'ottima condizione fisica. Bravo, allegri a capire il momento della Fiorentina e perciò secondo me è più adattata la Juventus alla Fiorentina che noi il contrario. I grandi critici di un tempo dicevano che la partita perfetta anima le prossime, quello è lo 0-0, perciò ecco ne siamo contenti. Sono vecchietto me lo ricordo. Benissimo, io pure comunque, non so proprio, sto su quella via, me la ricordo bene però. Comunque bene così, grazie. Grazie.